Buone notizie per l'annosa questione della realizzazione del ponte sul Meduna, opera strategica di enorme importanza per tutti coloro che percorrono quotidianamente la ponte Bana. Il presidente Federighi in Consiglio regionale ha annunciato che metterà le risorse necessarie per completare il quadro finanziario per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna. Nei mesi scorsi erano stati distanziati 24 milioni, ne mancano ancora 11, che tra un mese arriveranno con la nuova manovra di bilancio. È una notizia molto importante, anzi è una notizia di cui dobbiamo compiacerci. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Pordenone e ovviamente la Regione, grazie ai consigli regionali, io in particolare ho lavorato stretto a contatto con il consigliere regionale Basso, ma anche con l'assessore Zilli, Pizzimenti, col presidente Fedriga, otteniamo il risultato atteso da lustri. Per decenni ci sono avute polemiche, battibecchi, scontri politici per la realizzazione di questa opera, che però non ha mai visto la luce. Ed è fondamentale perché chi frequenta la Ponte Bara sa quanto complicato sia andare da una parte all'altra, sia per quanto riguarda andare a lavoro, portare i figli a scuola, le corriere, per non parlare poi del traffico dei camion, che sono molto lenti, quindi con costi anche aggiuntivi. Con questo finanzieremo il nuovo ponte e anche la viabilità di raccordo. Una notizia di cui tutti dovrebbero essere contenti, al netto ovviamente del solito polemico in servizio permanente effettivo del PD, che parla di brutta di figura e di ritardi in analizzazione dell'opera. Peccato che quando il PD governava il governo nazionale, contemporaneamente la regione, contemporaneamente la provincia e contemporaneamente il comune, e quindi una filiera omogenea politicamente strepitosa, del Ponte di Meduna non ne abbia mai parlato e non abbia mai realizzato nulla. Il Ponte sul Meduna è un'opera strategica non solo per il territorio di Pordenone, ma per tutta la regione. Basta con le polemiche, basta con le rivendicazioni, siamo assolutamente convinti che questa sia un'opera strategica, che sarebbe di competenza dello Stato, ma che ovviamente Regione Friuli Venezia Giulia intende realizzare con le tempistiche del caso, ma intanto mette a disposizione nel bilancio che andremo ad approvare a dicembre tutto il fabbisogno finanziario per vedere completata l'opera in tempi accettabili.